Una città libera dalla plastica e che deve combattere meglio il fenomeno dell'esposizione irregolare di frutta e verdura. È un dibattito vivace e a tratti polemico quello che si è sviluppato ieri nella sede degli uffici comunali di Andria situati a Largo Grotte dove gli assessori, Matera, responsabili delle attività produttive, polizia locale e del giudice che ha la delega all'ambiente hanno incontrato sigle sindacali dei commercianti, associazioni ambientaliste e semplici cittadini per discutere di due iniziative che possono avere un valore positivo per l'ambiente e la salute pubblica. La polemica si accende nella discussione sull'esposizione della frutta. I commercianti non ci stanno ad essere accusati di essere responsabili della vendita di prodotti contaminati. Un messaggio che forse è passato nel dibattito apertosi da alcune settimane sul tema ma è che è frutto di una eccessiva semplificazione come conferma il dottor Magarelli del servizio igiene degli alimenti dell'ASL BT. Nel contenimento del rischio può essere efficace. È ovvio che a un certo punto se noi volessimo eliminare il rischio sarebbe facile chiudere tutto così come se volessimo evitare gli incidenti automobilistici interdiciamo al traffico. Ad ogni modo i commercianti si sono detti disponibili ad accettare un'ordinanza che preveda la sola esposizione di frutta a buccia spessa entro i 70 centimetri dall'ingresso del negozio. L'installazione di coperture per quella esposta è che le cassette siano disposte con una elevazione rispetto al suolo di un metro. Nell'ordinanza si ribadirà che i furgoni possono essere utilizzati solo per il carico e lo scarico della merce e non come ulteriore superficie espositiva e di vendita. Per gli ambulanti dovranno essere previste aree ad hoc per fermare la giungla di venditori che si posizionano dove vogliono e che i furgoni abbiano un'apertura su un lato solo e che siano chiusi sugli altri tre lati del cassone. I commercianti e le associazioni di categoria hanno chiesto un giro di vite sugli abusivi indolenti ai richiami e alle multe. La polizia locale potrà procedere al sequestro e addirittura alla confisca dei mezzi che esercitano abusivamente il commercio di frutta e verdura. Abbiamo riunito tutte le associazioni e le organizzazioni sindacali insieme alle associazioni ambientaliste per proporre uno schema di protocollo d'intesa convenuto con l'ASL che dia finalmente ordine alla questione dei frutti vendoli. Frutti vendoli per i quali nessuno ha mai sostenuto che gli stessi siano degli avvelenatori della città abbiamo soltanto cercato di far rispettare sia le leggi relative all' occupazione dello spazio pubblico e sia anche i profili igienico-sanitari atteso che la situazione era oggettivamente sfuggita di mano. Sull'ordinanza Plastic Free il dibattito ha visto concordare la data di partenza dal primo gennaio 2020. Da quel giorno gli esercizi commerciali di Andria non dovranno più utilizzare oggetti di plastica monouso, bicchieri, piatti, posate e sacchetti mentre una deroga è prevista sulle bottigliette. Subito dovrà partire una campagna di sensibilizzazione attraverso le associazioni ambientaliste per comunicare questa scelta della città di Andria. Proprio nelle mie mani ho dei contenitori assolutamente identici a quelli che normalmente vengono utilizzati soltanto che sono addirittura biodegradabili o addirittura compostabili cioè potrebbero essere tranquillamente lasciati nell'organico a dimostrazione del fatto che comunque grazie allo sviluppo delle tecniche è possibile riuscire a sostituire la plastica avendo rispetto dell'ambiente.